C'è sotto un delitto, un enigma che ha risolto. Marco Ferreri, ma che me ne frega, che significa? Ragazzi, conoscete Marco Ferreri? Un grande artista anarchico. Potrebbe anche essersi trattato di un suicidio. E Ferreri è da ricordare, non come morto, ma come vivo. Ah, i film di Ferreri mi fanno cazzare. Insomma, il ritorno ci mette nei avuti. Siamo in un mondo di copie, invece quello era l'originale. Un regista che veniva dal futuro? No. Non posso mollare proprio ora. Ha vinto il consumismo, non ha vinto Ferreri. Ero un disobbediente nato. Non ho capito bene la domanda.